le teste degli affreschi della chiesa di madonna delle virtù dai racconti materani di vito coviello quando con la legge de gasperi gli abitanti dei sassi poterono abbandonare avendo avuto delle casi popolari quelle vecchie abitazioni nei sassi per metà grotta e metà in muratura dove il tetto dell'uno diventava terrazza per l'abitante della casa di sopra quando i sassi incominciarono a svuotarsi e quelle case che venivano abbandonate venivano opportunamente murate affinché nessuno potesse andarle a rioccupare quelli che erano rimasti nei sassi si arrangiavano come potevano per viverci le immondizie che producevano e anche i laterizi di lavori che facevano buona parte li buttavano direttamente nella gravina sottostante ma per lo più andavano riempire gli spazi di quelle case abbandonate e vuote ricordo che noi da bambini andavamo per i sassi salendo su per i tetti pericolosamente entravamo in quelle case attraverso pertugi che qualcuno aveva fatto per buttarvi le immondizie e così arrivamo anche nella chiesa di madonna delle virtù pientrammo era completamente piena di immondizie di laterizi fin quasi al tetto della chiesa stessa si intravedevano sulle pareti laterali bellissime solo le teste dei santi affrescati nella chiesa successivamente la stessa fu ripulita svuotata di quelle immondizie e riportata nuova gloria la stessa la chiesa della madonna di rivirtù e quella soprastante di san nicola dei greci ed allora è diventata luogo di arte un contenitore di arte in esse si fanno ogni anno mostre di artisti di tutto il mondo